Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, è apparso in pubblico dopo molti giorni di assenza. Con la diffusione delle sue foto pubbliche, le autorità vogliono porre fine alle speculazioni sulla sua salute. Il filmato ha mostrato Lukashenko in visita a un punto di controllo dell'esercito. Il presidente è apparso stanco, confermando le voci di un cattivo stato di salute. I membri dell'opposizione bielorussa che vivono in esilio in Lituania affermano che ci sarebbero già piani per il post Lukashenko. Il presidente è stato spesso definito l'ultimo dittatore europeo. Il suo regime ha rafforzato la repressione delle opposizioni dopo le proteste di massa del 2020.